Parliamo quindi dell'emozione del disprezzo, rispetto alle altre emozioni il disprezzo non è un'emozione presente alla nascita, mentre le emozioni che abbiamo visto prima sono presenti diciamo alla nascita fondamentalmente, cioè la rabbia, la paura, tutte queste tipologie di emozioni possiamo vederle in bambini piccolissimi fondamentalmente. Paura, sorpresa, rabbia, felicità insomma, sono emozioni che i bambini piccolissimi hanno. Il disprezzo è un disgusto sociale diciamo così, quindi si manifestano, iniziano a manifestarsi dopo, iniziano a manifestarsi dopo i 2, 3, 4, 5, 6 anni diciamo. Non è un'emozione precocissima, cioè si manifesta anche in bambini magari di 6-7 anni. La rabbia nei bambini? Certo che sì. Cavolo, queste 6 emozioni fondamentali che abbiamo visto sono connaturate nell'essere umano, cioè fanno parte della natura dell'essere umano. Sono emozioni connaturate, quindi si manifestano praticamente dalla nascita insomma, dalle prime espressioni. Anzi, diciamo che i bambini molto piccoli, l'unico modo di comunicare sono proprio queste emozioni, no? Queste espressioni facciali che ti comunicano praticamente il loro stato d'animo, no? I bambini li vediamo. Ovviamente i bambini hanno una fisionomia un po' diversa, per cui non hanno i denti ad esempio, per cui non riescono magari a contrarre. Ma diciamo anche in maniera, come possiamo dire, anche in maniera embrionale, come possiamo dire embrionale, nel bambino troviamo la sorpresa, troviamo la paura, troviamo il disgusto, troviamo la tristezza, troviamo la felicità e troviamo la rabbia. Allora, mentre il disprezzo è un'emozione che andiamo a vedere, diciamo, più avanti. Allora, il disprezzo, l'emozione del disprezzo ha una caratteristica fondamentale che è la assimmetria. Quindi la caratteristica fondamentale del disprezzo è l'assimmetria. Abbiamo la scissura naso-labiale che si vede da una paura. Ecco, notiamo il disprezzo quando c'è una scissura naso-labiale accentuata rispetto all'altra. Questa è il disprezzo. Vedete? La bocca, la bocca fa una specie di S. Una specie, una piccola S. Anche così potrebbe essere. Questa è la manifestazione del disprezzo. Ovviamente non è che uno sta perennemente, non è che, ah ho notato, non è che uno sta perennemente così un quarto d'ora. È un'espressione, è un'espressione che è molto rapida. Sì, sembra il sorriso del narcisista, solo che nel disprezzo non c'è il sorriso. Il narcisista fa un sorrisino. Nel disprezzo non c'è il sorriso. La differenza col sorriso del narcisista è che non è un sorriso, è un'assimmetria. Non c'è sorriso. Il sorriso del narcisista è comunque un piccolo sorriso col sollevamento, è un sorriso sardonico, diciamo, no? Quello è il sorriso del narcisista. Ma nel disprezzo non c'è sorriso. È semplicemente un'assimmetria. Non sto sorridendo. Questo è il sorriso del narcisista. Questo è il disprezzo. Beh, no, succede quando ti fanno un pacco, ma il sorriso sardonico quando ti fanno un pacco del narcisista. Il sorriso sardonico, come dice Sara, è il sorriso che utilizzano quando ti fanno un pacco. Mentre il disprezzo, invece, è qualcosa che fanno, che fanno quando invece, quando invece, come possiamo dire, quando invece, beh, il disprezzo con l'invidia, ma anche il disprezzo, diciamo che la definizione di disprezzo, la definizione di disprezzo è disgusto sociale. Quindi, ehm, ti disprezzo vuol dire che non ti do stima, non ti do considerazione, ti considero un essere spreggevole, ti, ehm, mi disgusti, diciamo. Però a livello sociale, non è un, perché il disgusto, l'arricciamento del naso, è un qualcosa di istintivo, no? Invece qui il disprezzo è anche immediato, proprio perché è un'emozione che si manifesta, diciamo, eh, dopo i, ehm, quattro, cinque anni, insomma, quando c'è la logica, eh, diventa una, ehm, come possiamo dire, diventa una, eh, mediata anche dalla logica e dalla razionalità. Quindi il disprezzo è mediato anche dalla logica e dalla razionalità. Mentre il disgusto è soltanto, eh, un qualcosa totalmente inconscio, totalmente istintivo. Quindi, il disprezzo, ripeto, si manifesta come una asimmetria. Questa è l'emozione del disprezzo. E, ha la funzione proprio di, eh, diciamo, disprezzare l'altra persona. Ora, se è chiaro, il disprezzo, eh, vediamo rapidamente, diciamo, eh, faccio una foto, eh, che foto faccio, eh, il disprezzo non c'è foto. Ora, vediamo ancora rapidamente, poi magari, questa volta, li rifacciamo un ripasso generale, anzi, direi che facciamo un ripasso generale. Vediamo ancora il dubbio. Il dubbio, eh, non è un'emozione, diciamo, il dubbio non è un'emozione, però, eh, utilizza gli stessi movimenti muscolari, eh, del viso, come per le emozioni. Quindi un'altra caratteristica, il dubbio. Il dubbio, eh, si manifesta in due modalità. Una che io non riesco a fare, diciamo, che è un sopracciglio solo sollevato. Un sopracciglio solo sollevato io non riesco a farlo da solo, non riesco a farlo. Però, eh, quando una persona, tu dici un qualcosa e una persona solleva un solo sopracciglio, questo è una manifestazione del dubbio. Io non riesco a farlo, non ho la mobilità, non riesco a sollevare un sopracciglio solo alla volta. Cioè, magari, vedendo il dubbio, ma, eh, questa è una delle due modalità in cui si manifesta il dubbio. Quindi un sopracciglio solo sollevato. E, eh, l'altra, diciamo, emozione è il mento sollevato. Questa è, qua. Mento sollevato e, eh, mento sollevato e, eh, abbassamento, diciamo, degli angoli della bocca. Questa è la cosa qua. Come se sollevo la bocca, la bocca chiusa, sollevo praticamente il mento. Questa è l'espressione del dubbio. Oppure il sopracciglio sollevato. Sì, è come dire, mmm, mmm. Il mento sollevato e gli angoli della bocca abbassati, mmm, rappresentano il dubbio. Che, ripeto, non è un'emozione, ma è comunque interessante, diciamo, vedere anche questo tipo di emotività qua, questo tipo di risposta. Bene, bene, quindi, detto questo, direi che abbiamo visto queste cose e ci vediamo la prossima volta. E ricordo che tra un quarto d'ora circa su questo canale, chi volesse collegarsi, sempre per gli abbonati, c'è una lezione.